Ciao amici di Android Blog, vi abbiamo fatto vedere da poco la recensione di StyleTab 9.7 di ADJ e vi abbiamo detto sin dall'inizio che questo tablet inizialmente non presenta il Play Store, una mancanza che per molti può compromettere anche quella che è la decisione su acquisto o meno di questo tablet, ma vi abbiamo anche detto che noi lo avevamo installato. Il Play Store infatti è perfettamente funzionante su questo prodotto, funziona normalmente come su qualsiasi altro dispositivo, semplicemente non è installato di default. In questo video vi faccio vedere come installarlo. Allora, per prima cosa dovete scaricare il pacchetto che è comunque includo all'interno della guida nell'articolo. Lo copiate collegando il dispositivo al PC all'interno della memoria interna. Il pacchetto infatti si chiama update.zip, è un file zip che verrà appunto flashato sul tablet. e deve essere copiato all'interno della cartella della memoria interna, quindi non all'interno di sottocartella, mi raccomando. Una volta copiato il pacchetto update.zip, voi vi recate sulle impostazioni. A questo punto scorrete la lista delle impostazioni fino a raggiungere il menu informazioni sul tablet. Sotto questo menu trovate un sottomenu appunto chiamato aggiornamento locale, eccolo qui, non so se l'ho riuscito a vedere. Facendo un tap su aggiornamento locale ci viene detto Please copy the update.zip to SD card o SD card 2 The update file must name the update.zip Quindi tramite il tasto check update, noi l'abbiamo già copiato, quindi ci basta controllare che sia presente e il programma, il dispositivo ci dice che ha trovato il file in questione. A questo punto ci chiede se vogliamo effettivamente aggiornare, noi tappiamo su ok e il dispositivo viene riavviato in modo tale che possa eseguire l'aggiornamento. Noi l'abbiamo già eseguito, quindi cancelliamo l'operazione. Al riavvio completo vi ritroverete con il Play Store installato sul dispositivo. Vi ripeto, il Play Store non ci ha dato alcun problema. Una volta inseriti i vostri dati dell'account Google, avete la possibilità di installare qualsiasi applicazione. Tra le applicazioni che vi consiglio di installare c'è sicuramente il Chrome Browser, YouTube e comunque quelle che sono le Google Apps, quindi tutte quelle applicazioni che normalmente vengono inserite nelle ROM di default, tra cui Maps, tra cui Hangout, che è l'aggiornamento per esempio al Google Talk che viene inizialmente installato sul tablet. Quindi sul tablet in primo avvio troviamo Google Talk, una volta installato il Play Store e aggiornato il Google Talk, ci viene direttamente installato Hangout al posto di Google Talk. Altre applicazioni degne di nota, sicuramente il traduttore e anche Quick Office, eccolo qui, e comunque tutte quelle applicazioni che potete trovare sul Play Store. Bene, questa guida è tutto. Grazie. Grazie.